mamma mia buongiorno ma che bello sta ragazzo stamattina è vero è bellissimo e c'è pure bello sole stamattina vero allora sarà una bella giornata oggi è una bella giornata è buona stamattina posso prendere pezzo grazie grazie solo un pezzo grazie sei molto generoso tanto no solo un pezzo va bene ok tutto l'està è tuo ok ma sono proprio buone così devo farmi vedere così è così ok lo faccio pure io così così e così mamma mia tu sei bravissimo fare queste cose complimenti e tu no e io no però io mi ci provo ok devo fare così così e così va bene no mamma wow perfetto così 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 ok aspetta una mano così così wow bravissimo così 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 e così mangi tutte le mele e ci stanno ancora tre pezzi chi se mangia uno io tutte io ma no mangia pure due ancora questa piccola questa piccola prendo io e allora devo prendere una io o no questa questa grossa questa grossa davvero per me grazie 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 e sì ma mi devi far capire una cosa che sto vedendo adesso come ti sei messo sopra letto con le scarpe non l'hai tolto mannaggia ma come ti sei combinato che tu non hai tolto scarpe io non sono accorto vai volare una bam e poi ti metti a posto metti tu bravo prima fai volare poi metti a posto vero ok ok ho finito mela che buona mani in alto tutti e due è andato a posto ma dove vai basta mela mi sa che non vuoi più ve non vuoi più andiamo a fare la doccia andiamo a preparare e andiamo a fare la doccia andiamo a fare la doccia io so oggi un po' di più di solido stanca però fa niente andiamo a fare la doccia facciamo un po' coccole e andiamo a dormire ok 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 mhm mhm